L'apposta, però... Ah, dove ho iniziato? Si può partire? Va bene? Buonasera a tutti, come ogni giovedì ormai è l'appuntamento fisso, direi quasi storico, del nostro programma dedicato alla salute e alla medicina con Il Medico Risponde. Victor oggi ha le cuffie per due motivi, un po' perché siamo sotto Sanremo, ma anche perché si parlerà in questa trasmissione di una cosa bella, molto importante, la neurostimulazione musicale. Lo faremo con il dottor Domenico Serino, che è un neurologo pediatra da Aberdeen, quindi siamo in Scozia, in collegamento con gli Scozia, lui è alla Royal Aberdeen Children's Hospital, lavora e anche è un honorary senior all'Università di Aberdeen. Ciao, buonasera, grazie di essere venuto con noi. Allora, oggi parleremo di musica, però in una situazione particolare. Allora, ti faccio subito questa domanda. Come la neurostimulazione musicale può aiutare un bambino? Allora, può aiutare un bambino in tanti modi, che è quello su cui noi stiamo facendo ricerca. Nello specifico, noi stiamo cercando di fare ricerca su come può aiutare i bambini con epilessia, che è una malattia che fa sì che le cellule del cervello, che si chiamano i neuroni, funzionino quando non devono e quindi danno questa scarica elettrica che coinvolge tutta la corteccia cerebrale e fa perdere il controllo per la durata di quella che noi chiamiamo crisi epilettica. Per fortuna una buona fetta di queste epilessie può essere controllata con i farmaci o addirittura va in remissione da sola, però c'è una fetta consistente purtroppo che non risponde ai farmaci e quindi c'è una costante ricerca di metodi alternativi per cercare di affrontare la cosa. Uno di questi sono i metodi di stimolazione neurale, che può essere fatta con macchinari che mandano impulsi elettrici un po' grezzi, però cercano di bloccare le crisi. Il nostro è un approccio più soft, noi diciamo non invasivo, che consiste nell'utilizzare la musica come stimolo con l'obiettivo di ridurre o bloccare le crisi. Siccome però è un metodo che è ancora sperimentale, è in fase di ricerca e il nostro è uno dei centri che si sta occupando di uno studio pilota proprio su questo. Per fare chiarezza, che differenza c'è tra la neurostimulazione musicale e per esempio la musica come terapia per lo stress, per stare meglio? Certo, la musicoterapia che ha anche una valenza importante, però fa riferimento più alla risposta emotiva che le persone hanno alla musica e gli effetti positivi che questo fa. Mentre la neurostimulazione musicale si basa non tanto sulla risposta emotiva, ma sull'effetto che la struttura matematica dello stimolo, in questo caso della musica a cui si espone la persona, ha sulla programmazione neurale. Quindi l'esempio che faccio è un po' la differenza che c'è tra l'effetto che può avere un programma di un computer nel programmare un computer, invece la differenza tra la risposta emotiva che potremmo avere una bella giornata di sole. Quindi sono cose che sembrano nel nome simili, ma in realtà sono molto diversi, tanto che uno può anche odiare il pezzo di musica che sta ascoltando e funziona lo stesso. Ok, giusto, giusto, giusto. Senti, ma la musica come influenza, andiamo più nel dettaglio, il nostro cervello, in particolar modo le emozioni, per esempio, di un bambino? Allora, da un punto di vista emotivo, è molto soggettivo e molto complesso, quindi la variazione di risposte emotive può essere enorme. Per quanto riguarda invece il modo in cui alcuni specifici pezzi di musica possono influenzare il modo in cui il cervello funziona, se, quando dico specifici, ci dico che devono avere una struttura molto molto particolare, se presentano questa struttura, ascoltare questi pezzi di musica rinforza quella programmazione, quei programmi del computer, chiamiamolo così, che nel cervello lo fanno funzionare e inibiscono invece i programmi cattivi, come quelli per esempio che causano le crisi epilettiche, perché è come se quel linguaggio forse è rinforzato. Io faccio un po' l'esempio di un bel pezzo di carta bianca, noi se vogliamo scrivere dobbiamo avere un pezzo di carta pulito, se c'è qualcuno che ci scribacchia sopra non si legge bene quello che voglio scrivere, se io invece ho qualcosa che toglie quelle brutte scribacchiate sopra, che pulisce come una gomma, quindi rende più bianco ancora il foglio, io ci posso scrivere e non ho problemi, e si legge quello che scrivo. E questo è quello che fa un certo tipo di musica. Comunque in ogni caso la musica fa bene. Dipende, nel senso che è come la musica buona. Buona, ovviamente. Brutto la musica no. Purtroppo c'è anche la musica, noi come in radio ne sappiamo qualcosa, a volte c'è anche la musica che non è buona, però insomma la musica in generale diciamo fa bene. Beh, questo è interessante che tu lo dica, perché è ovvio la risposta scontata è sì, però porta un'altra domanda, perché chiamiamo la musica musica? Cioè in fondo è solo una collezione di suoni, allora cosa è che distingue quello che noi chiamiamo musica da quello che è il rumore? E una delle risposte, delle ipotesi che noi abbiamo è che tutto ciò che noi chiamiamo musica è un insieme complesso di suoni che in qualche modo è in risonanza con quello che noi siamo, in risonanza col codice che il nostro cervello usa per elaborare i pensieri. È un po' come perché lo zucchero è dolce, nell'universo non esiste il concetto di dolce, ma qualcosa che fa bene, che ci dà energia, noi lo percepiamo come dolce perché così siamo spinti a ricercarlo. E penso che la stessa cosa valga per la musica, noi siamo spinti a ricercare una serie di suoni che hanno un certo tipo di matematica dietro perché vanno in risonanza con quello che noi siamo e ci fa bene. Quindi il nostro cervello comunque emana delle energie sotto forma di frequenze, in un certo senso? Il nostro cervello funziona con l'elettricità, che è una forma di energia, e usa l'elettricità come i nostri computer per creare un codice. Anzi, si potrebbe dire che i computer sono cervelli stupidi. Il cervello... Si parla tanto di intelligenza artificiale, quindi voglio dire, ora però la devi spiegare, perché in realtà sono stupidi se non c'è qualcuno che li istruisce. Esatto, cioè nel senso che sia il cervello umano, perché poi alla fine noi non facciamo altro che ricreare in piccolo quello che siamo, che i computer utilizzano l'elettricità per creare un codice. Cioè nel caso specifico la presenza di un elettrone, di attività elettrica, equivale a un 1. L'assenza di elettricità equivale a uno 0. Quindi la presenza di 0 e 1 è un linguaggio, si chiama codice binario. Noi usiamo il codice A10, no? Noi contiamo fino a 10, ma quella è una scelta arbitraria. Si può usare anche una base 3, una base 4, in questo caso una base 2. Si fanno numeri. Ora lo può fare un computer in modo molto semplice, ma lo fanno anche le cellule del cervello, scaricando elettricità o meno. Ovviamente adesso io lo semplifico molto, ma da qua poi parte un codice, che è un codice di programmazione estremamente complesso. La differenza tra il nostro cervello e i computer, quelli vecchi, non quelli nuove a intelligenza artificiale, ma quelli più classici, è che il nostro cervello utilizza questo codice anche per imparare. Quindi non ha una programmazione fissa. Mentre i vecchi computer fanno solo quello che uno gli ha detto di fare. Non imparano, non acquisiscono abilità nuove. Questo è importantissimo quello che stai dicendo. Sembra quasi chi ci può ascoltare, magari dice, ma come si parlava del medico rispondi, cosa c'entra? No, invece c'entra, perché qua il nostro Domenico Serino, che è appunto un dottore che si occupa della neurostimulazione musicale sui bambini, poi trova una praticità sui casi dei bambini, quindi si può andare a curare, si può andare a fare anche una cura con la musica sui bambini. No, lo dico perché magari qualcuno può pensare, dice, ma era il medico risponde? No, è il medico risponde, è un medico, anzi tra l'altro un ricercatore, tu sei anche un ricercatore. Sì, facciamo anche ricerca qui. Ti occupi poi anche non solo della teoria, ma anche della pratica. Ma ti volevo chiedere, quali sono i benefici che i bambini possono ottenere ascoltando musica, ma anche per esempio fare musica? Allora, nell'ascoltare musica ci sono tantissimi benefici, quindi nel caso nostro specifico, nell'ascoltare musica si spera appunto la riduzione delle crisi epilettiche, ma in generale è stato dimostrato che l'esposizione al giusto tipo di musica causa un aumento del tono dell'umore, quindi una riduzione dello stress, un abbassamento della pressione arteriosa, ma anche una stimolazione del sistema immunitario, quindi rafforzare le difese contro virus e batteri. Ma ci sono effetti benefici non solo nei bambini, ma anche negli adulti. Ho colleghi che stanno facendo studi sull'effetto della musica sul Parkinson, sull'Alzheimer, su altri disturbi del movimento. C'era addirittura un articolo che un po' mi ha fatto sorridere, ma mi piacerebbe approfondire un po' più l'argomento in cui alcuni colleghi dimostravano che ascoltare la musica dei Queen aumenta la produzione di insulina. Proprio spazio ridere. C'è proprio spazio dei Queen, neanche rock, dei Queen. No, dei Queen. Però se uno, ripeto, si torna al discorso di prima, che la musica alla fine è una sorta di linguaggio, di codice, non è difficile pensare che questo codice abbia un'influenza poi sul nostro codice. è un codice che, tra l'altro, la musica non è che viene da fuori, la scriviamo noi. Quindi i benefici sono molti. Per quanto riguarda il fare musica, anche lì è stato dimostrato che impegnare il cervello in eseguire, questi che poi, come ricevo, sono codici, potenzia quelle parti del cervello che hanno a che fare con la codifica matematica, quindi anche sullo sviluppo delle competenze cognitive. Quindi è stato dimostrato che chi fa musica ha un cervello che è più elastico e che è più dotato per quanto riguarda anche le abilità matematiche. Prima nel fuori onda mi facevi l'esempio di Mozart, che lui pensava... Parlava in musica. Parlava in musica. Sì, siamo al top del genio in tutti i sensi. Sì, sì. Lì, come ti dicevo, si leggono le biografie che scrivevano i suoi amici, come lui era amico di Buck Jr., scriveva che quando Mozart parlava la struttura delle frasi che usava non era la normale struttura linguistica del tedesco, era la struttura che si trova in musica. Quindi lui pensava in musica e traduceva in lingua per gli esseri umani intorno a lui, ma Shakespeare... Sì, Shakespeare, scusate. Mozart era un genio. Mi è venuto in mente Shakespeare perché invece ho pensato alla lingua, un altro genio invece della lingua, ma sono tutte persone che se ne trova una su un milione perché hanno una genialità di cui loro sono poi consapevoli fino a un certo punto. Tra l'altro anche Dante, come è strutturata la divina commedia, sono degli studi che fanno vedere che c'è proprio un ritmo musicale al di là delle, ovviamente, delle assonanze vocali, consonanti, ma proprio la struttura come lui l'aveva scritta si ricorda molto uno spartito musicale. insomma, la musica fa parte delle nostre vite, è giusto usarla e saperlo usare bene. Poi ovviamente, come dicevamo prima, ci sono tipi di musica molto forti, molto chiaro, anche inquietanti, la musica può essere anche inquietante invece di far bene, fa male. Senti Domenico, ci puoi fare un esempio concreto di un caso, di un bambino, per esempio, che è venuto da te o l'hai seguito tu e appunto stava male, poi però con la neurostimulazione musicale ha trovato dei benefici. Ma io non dimenticherò mai questo caso di questa bimba con cui sono ancora in contatto, tra l'altro, che adesso mi pare tra i 12 e i 13 anni. Questa bimba è venuta in Scozia da Londra, perché la famiglia ha avuto in corso delle difficoltà nell'acquisto e vendita di casa, quindi hanno dovuto, sono stati costretti a stare per un breve periodo di tempo in Scozia. Questa povera bimba, intelligentissima, bravissima, però aveva affetto a una forma grave di epilessia per cui aveva qualcosa come 50-100 crisi al giorno che poi la facevano cadere, non riusciva ad andare a scuola, non riusciva a fare niente. E a Londra le avevano detto che non c'era nessun trattamento per cui niente, non prendeva neanche farmaci. però era arrivato a un punto tale che la mamma l'ha portata al pronto soccorso ed è stato lì che l'ho conosciuta. Trovandomi in una situazione in cui avevo pochissimo tempo perché sapevo che a un certo punto sarebbero tornati a Londra, ho provato a impostare una terapia farmacologica però poi ho detto alla mamma guardi, noi stiamo lavorando su questa cosa, è sperimentale, però obiettivamente non è invasiva, non avete niente da perdere, abbiamo poco tempo a disposizione, proviamola. e adesso è praticamente un anno e mezzo che lei non ha più crisi, è tornata a Londra, è assolutamente senza crisi, mi manda dei disegni bellissimi, è probabilmente un artista in erba, è tornata a scuola, ha una vita ricca, piena di amicizie, e la mamma mi ringrazia, è stato il fato che ci ha fatto stare in Scozia per quattro mesi. e questa è una storia che io ricordo a me stesso sempre per spingermi a continuare in questo progetto di ricerca. Ne ho anche altre, però non mi voglio annoiare. No, questa comunque è bella, già questa, insomma, anzi ti dico che fai un lavoro affascinante, difficile, ma molto affascinante, devo dire. senti, quando i genitori devono iniziare a preoccuparsi nella patologia di un figlio, di un appunto, non so, da un anno, due anni, quando il bambino inizia a avere dei comportamenti, di disturbi che deve allertare il genitore a dire qua c'è una patologia a cui mi devo rivolgere, per esempio, al dottor Serino. Ma allora, se parliamo nello specifico dell'epilessia, purtroppo le crisi epilettiche possono avvenire a qualsiasi età. Anche in fase adulta, quindi? Anche in fase adulta, ma anche in neonati. Noi, per esempio, adesso stiamo lavorando, tornando al discorso dell'intelligenza artificiale, con l'Università di Glasgow, un progetto in cui addirittura a riconoscere le crisi epilettiche in un neonato è il cellulare. Lo stiamo facendo per soprattutto i paesi emergenti dove magari non hanno il neurologo pediatrico. Siccome queste sono patologie che possono creare danni permanenti, il riconoscimento immediato è fondamentale. Per cui, adesso che c'è la possibilità di registrare video di quello che succede, stiamo lavorando su questa app che però impara, quindi non è programmata, è un'intelligenza artificiale, quindi a forza di vedere video diventa sempre più precisa, che sa riconoscere cosa è un movimento normale di un neonato e cosa invece è un qualcosa che deve essere trattato immediatamente, perché altrimenti appunto può portare a danni permanenti. È triste purtroppo dire che la possibilità che una patologia si sviluppi in qualsiasi momento della vita vale per tutto l'ambito neurologico. È ovvio che ci sono alcune cose che sono più specifiche di alcune età e altre di altre, però è la triste natura umana che siamo sempre esposti alla possibilità di una patologia. È anche vero però che la medicina ha fatto tantissimi passi avanti, quindi è anche molto più facile riconoscere queste cose e intervenire già in tenera età, cosa che una volta non era possibile. Ma, senso, mi dico, è vera, io a volte leggo, no? È vera che, per esempio, persone, bambini, ma anche adulti, in coma, ascoltando la musica, potrebbero uscire da quella fase di coma? Lo studio originale, quello che chiamiamo seminale, che ha portato alla ricerca che stiamo facendo adesso è fatto da Hughes nei primi anni del 2000, era proprio in pazienti in coma. Ok. Lui aveva, era un studio fatto su 27 pazienti in un tipo particolare di coma che si chiama stato di male epilettico, per cui queste persone erano in coma, ma mentre erano in coma avevano una crisi epilettica veramente continua. per cui era il motivo per cui stavano in coma. E lui li ha esposti al pezzo musicale che noi stiamo studiando, li ha anche esposti a altri pezzi musicali per capire se funzionava solo quello o se ne funzionavano anche altri, di tutti i tipi, e ha anche studiato la composizione matematica utilizzando i computer. Ed è da lì che è stato scoperto che su 23 di queste 27 persone, nel momento in cui le esponeva la musica, questo stato di male si interrompeva. ma solamente per la quantità di tempo in cui venivano esposti. Appena la musica finiva tornavano come prima. E quindi è da lì che è partito tutto poi la corrente di studio a cui poi mi sono accodato anche io. Senti, il range delle frequenze musicali, c'è un range di frequenze in cui la musica agisce di più su queste patologie? Non so, sparo là, per i non addetti a 140 Hz o 300 Hz o 20 Hz, ecco. Allora, come sappiamo la musica ha tante proprietà, la frequenza è una, poi c'è il tempo, il ritmo, cioè ci sono tante cose. Allora, ti dico subito che quello che sembra avere un effetto più che la frequenza è quella che si chiama periodicità. Cioè, in una musica, la musica è fatta di frasi musicali, quanto sono lunghe o corte queste frasi musicali, questo si chiama periodicità. La musica che sembra avere un effetto, tipo quello di cui sto descrivendo, è la musica a lunga periodicità, mentre la musica moderna, gran parte della musica moderna, a corta periodicità. Per quanto riguarda le frequenze, c'è un gruppo di studio che studia tuttora gli effetti positivi che quelle che siano frequenze gamma, cioè che sono frequenze molto alte e oltre i 100 Hz perché hanno avuto degli effetti per esempio positivi sul Parkinson. Hanno provato a fare la stessa cosa facendo quello che si chiama un boost, cioè rendendo più udibili le frequenze gamma dei pezzi di musica che noi stiamo studiando e invece hanno ottenuto l'effetto opposto. Quindi la risposta alla tua domanda è a volte sì, a volte no. Dipende da che stai facendo però la variabile non è solo la frequenza ma è anche la periodicità, il tempo, il ritmo, per esempio quello che stiamo studiando noi se è suonato con uno strumento che non è il pianoforte non funziona. Quindi dipende anche dallo strumento, perché ogni strumento poi emette un timbro diverso. Certo, un timbro diverso. Quando abbiamo messo il post nel nostro gruppo della radio ovviamente sono arrivate alcune domande. Una, te ne leggo una, è di Serena da Liverpool e ci ha scritto volevo sapere dal medico se la musica, in questo caso la neurostimulazione musicale, può aiutare mio figlio affetto d'autismo. è una delle branche di studio che stiamo valutando infatti il mio collega nella ricerca io sono un neurologo pediatrico il mio partner ricerca è un neuropsicologo e stiamo valutando anche gli effetti che questa stimolazione neuromusicale possa avere su disturbi sia comunitivi che comportamentali tra cui anche l'autismo. questo è uno dei filoni di studio che speriamo in un futuro con finanziamenti sufficienti di poter intraprendere mi verrebbe da pensare di sì però è un qualcosa che ancora non abbiamo risultato è un work in progress un work in progress e per così sdramatizzare Sanremo potrebbe aiutare o una terapia per noi o adulti non lo so è Sosk cercando di strapparti un sorriso insomma strappare anche un sorriso ai nostri ascoltatori visto l'imminente settimana che ci aspetta poi inizia Sanremo insomma anche perché ho detto una cosa giusta prima i tempi di musica quelli periodici lunghi in realtà si tende sempre anche nel festival di Sanremo a fare le musiche più corte possibile devi rientrare in quei due minuti esatto quindi capito volevo sapere da te cosa ne pensavi allora da un punto di vista puramente scientifico effettivamente la perdi la iper semplificazione della musica va a diluirne anche gli effetti benefici per cui strutture musicali troppo semplici troppo corte con poca con poca complessità sono anche strutture musicali che hanno un minore impatto e si avvicinano più al suono ripetitivo che alla musica adesso sto esagerando però per far capire meglio infatti basta fare il paragone tra quella che può essere un tipo di musica un pochino del jingle pubblicitario con quella che è la musica classica hanno anche scopi diversi quindi un conto è creare qualcosa che stimola la corteccia cerebrale un conto è creare qualcosa che rimane nella testa e quindi aiuta a vendere sono obiettivi completamente diversi questo non vuol dire che solo la musica classica fa bene io sono ormai convinto dopo tanti anni che lavoro in neurologia che è la diversità che fa bene quindi bisogna arricchire la propria cultura musicale e conoscere un po' tutto bisognerebbe un po' come qualsiasi cosa che ha a che fare con l'arte imparare a distinguere da ciò che è di qualità da ciò che lo è di meno ma se non si prova non si sa bisogna però anche educare cioè alla base di qualsiasi funzionamento del cervello c'è l'educazione e quindi l'esposizione positiva senti a parte appunto la lunghezza del ritmo musicale se uno pensa ritornando ai Queen è una canzone molto lunga che ha varie come posso dire ritmi movimenti cambi di suono cambi di vocali cioè cambi di vocalità quindi insomma non penso che i Queen l'abbiano fatta così a caso insomma per me Freddie Mercury è Mozart moderno per cui con me guarda proprio tocchi il tasto giusto e sì Freddie Mercury è l'esempio perfetto di una persona che conosceva ogni tipo del genere musicale possibile dal vaudeville al rock all'arena rock all'opera Bohemia Rhapsody è un tutti sanno che è una sua ode all'opera al suo amore per l'opera ma richiede grandissima abilità riuscire a mettere insieme in un unico pezzo di musica tanti stili diversi con una complessità esattamente il tipo di complessità di cui facevo che parlavo prima e la periodicità musicale di una Bohemia Rhapsody è diversa appunto da un qualcosa che potremmo vedere adesso anche a Sanremo faccio però presente che quando Bohemia Rhapsody uscì la prima critica che fu fatta è troppo lunga è troppo lunga è chiaro ma anche loro sta a loro avevano detto ai produttori noi non ti aiutiamo perché chi vuoi che ti ascolti un brano ora non mi ricordo bene ahimè mia colpa se sono sei o otto minuti di musica ma chi te l'ascolta e invece è forse il brano più iconico tra i tanti di Queen quindi questo dimostra che la musica esatto poi alla fine quello che noi siamo veramente emerge perché uno può criticare commercializzare quanto vuole ma poi alla fine siamo sempre attratti verso quello che in qualche modo risuona con come funzioniamo noi dentro e quindi c'è un piccolo pezzo e Freddie Mercury in tutti non mi avrebbe da pensare bellissimo e la musica in conclusione appunto la neurostimulazione musicale sui bambini però vale anche per gli adulti perché tu mi hai detto anche per esempio per i malati di Alzheimer malati di di Parkinson quindi anche perché sono poi malattie posso dirlo in maniera io sono ignorante però poi correggimi neurogenerativi quindi ecco già lì anche sul movimento può aiutare la musica per un anziano sto pensando ecco sì ci sono gruppi di ricerca che infatti stanno lavorando su questo io perché mi occupo di pediatrico quindi le mie conoscenze sono più mirate a quello ma non perché funzioni solo sui bambini sia anche in ambito epilettologico quindi per l'epilessia ci sono colleghi che invece stanno facendo la stessa cosa in adulti ma non solo in epilessia come giustamente dicevi tu anche parkinson alzheimer e altre malattie neurologiche perché alla base c'è il concetto che il giusto tipo di stimolo neurologico possa andare a contrastare quello che chiamiamo la programmazione cattiva e quello che l'appeal dietro a questo tipo di intervento è il fatto che sia così poco invasivo così poco costoso così facile da riprodurre un po' ovunque certo è che ovviamente prima come in ogni cosa in ambito scientifico prima che si possa dire sì sì funziona assolutamente va fatta della rigorosa ricerca i numeri devono essere grossi si devono presentare i risultati però diciamo che quello che c'è finora è abbastanza incoraggiante io proprio prima di collegarmi con voi stavo riguardando un articolo scritto da una nostra studentessa tra l'altro italiana su tutto quello che è stato pubblicato finora e devo dire che finora i risultati sembrano sembrano incoraggianti ma c'è ancora ancora da fare ancora da lavorare però la speranza è l'ultimo a morire quindi sono convinto che riuscirete insomma a fare il top del top senti ma tu sei al Royal Aberdeen Children Hospital a fare questa questo viaggio nel mondo della mente dei bambini e nella ricerca ma perché a Londra non c'è questa cosa o sei capitato là per altri motivi allora io io sono qui sono venuto qui per perché c'era un interesse specifico nel costruire un gruppo che lavorasse sulla epilessia quindi mi hanno reclutato dall'Italia apposta per questo e quindi è stato facile per me poi portare avanti una proposta di ricerca sull'ambito epilessia di questo tipo non nego che avevo provato a fare una cosa del genere anche in Italia ma non c'era stata una risposta molto accogliente nel Regno Unito l'unica altra persona che ha iniziato a lavorarsi è una collega che si chiama Melissa McGuire a Leeds che se ne occupa però per gli adulti detto ciò l'attuale presidentessa della Lega Internazionale contro l'epilessia è una professoressa di Londra che è stata molto incoraggiante di supporto rispetto al progetto e molti dei colleghi con cui poi collaborerò in futuro per progetti più grandi sono di vari posti del Regno Unito quindi in questo momento il progetto parte da qua ma ci sono alte probabilità che coinvolga altri centri molti altri centri nel Regno Unito è un work in progress io ti ringrazio Domenico di essere stato al Medico Risponde come ogni giovedì parliamo appunto di patologie cerchiamo di dare delle risposte o creare nuove domande per riaffrontarle poi eventualmente con nuovi collegamenti in questo caso dalla Scozza da Aberdeen con il Dottor Domenico Serino del Royal Aberdeen Children Hospital che ringrazio grazie grazie a te Phil ciao buon lavoro grazie a te Phil grazie a te Phil